Ancora un ponte da record in campagna, quello del 2 giugno con Napoli che vince sulla capitale per presenza di turisti stranieri. Un nuovo successo che premia il capoluogo partenopeo e quanto emerge dai dati, diffusi dal focus elaborato da Soturismo di Confesercenti, che raccontano come si è sfiorato il sold out tra alberghi e bed and breakfast. Le prenotazioni online sono documentate per un pienone da 88%, invece a Roma si attestano presenza intorno all'86%. A livello regionale boom di turisti in Veneto e Toscana, 86%, ma subito dopo c'è la Campania con l'84% delle stanze occupate. I turisti non preferiscono la bella regione solo per i percorsi culturali e la bellezza dei suoi monumenti, ma anche per i lidi suggestivi del Golfo, con un vero e proprio assalto a Capri e Sorrento con il 90%, bene anche Ischia con l'86%. Il trend positivo è stato confermato anche dal focus elaborato dall'osservatorio turistico extraalberghiero dell'ABAC, secondo cui oltre il 95% delle strutture ricettive sono prenotate sulle isole del Golfo, in penisola sorrentina e anche in costiera. In crescita anche le prenotazioni a Napoli e Sarerno, nel capoluogo partenopeo e sold out con i lidi di Posillipo presi letteralmente d'assalto dai bagnanti, così come per gli hotel. Folla anche sul lungomare, dove ieri è stato inaugurato Pizza Village, con 50 forni e 600 pizzaioli nazioni, disagi in serata per il traffico. Nota stonata i disservizi a partire dai trasporti. Sullo sfondo l'ira sul social per la foto di un turista francese, in posa seduto su una colonna della Basilica degli Scavi di Pompei.